CURRE CURRE VAIO 2991 991 Un giorno dopo i dati, ma un certo per paffuno Ma tu, lo pezza giurpi Nessi anni stanno passando controvi di questo stato, la gabbia sta piacendo dentro il centro, trasportati fuori imprimendo fino a solo panze e no c'è una fantastica gente, sapete che significa l'evaginazione esattamente quanto costa fare il centro sociale, vicino a noi, no e burro, burro, vaglio 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 burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio and now ladies and gentlemen in the mandolino burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio burro, vaglio burro 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 burro, vaglio 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 Grazie a tutti Curre, curre, vaioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio per strada a noi ci capita sempre più spesso di avere la brutta sensazione di stare vivendo qualche ruolo marginale dentro a quelle serie parallele che fanno di Walking Dead, roba di zombie comunque.